Voglio ringraziare il PD della sessione di libari per avermi invitato a questo importante convegno. Saluto la segretaria provinciale Giovanna Di Bartolo perché è sempre presente agli eventi del PD comunale. Saluto anche gli ingegneri presenti. Allora io come dicevo a manifesto mi devo un attimo fermare i saluti. È chiaro che come amministrazione comunale abbiamo da tempo avviato una discussione con il direttore generale della regione Calabria e ovviamente ci sono molte criticità rispetto all'attuazione delle comunità energetiche. Non vorrei rubare altro tempo, magari se è possibile durante la vostra esposizione intervenire di battere insieme per capire come operare al meglio anche sul nostro territorio. Quindi non ho altro tempo e lascio la parola a terra.